buon pomeriggio a tutti continuano i webinar proposti dalla fila che vogliono essere una risposta una risposta ai tanti interrogativi e le tante domande ai tanti approfondimenti che in questi giorni interessano le nostre scuole la scuola tutta ma in modo particolare la scuola paritaria in questo caso la scuola paritaria cattolica abbiamo fatto vari approfondimenti nei webinar dall'aspetto didattico all'aspetto valutativo aspetto normativo e lavoristico stasera con padre sebastiano de boni esperto in questa materia approfondiremo un aspetto importantissimo come gestire la salute e la sicurezza dei lavoratori che tanti e nostre scuole hanno tutta la documentazione già nell'ordinarietà ma in seguito al cobit 19 cambia qualcosa ci sono degli approfondimenti da fare ci sono delle integrazioni che cosa possiamo fare e questo è quello che stasera a padre sebastiano chiediamo innanzitutto la ringraziamo per la sua disponibilità ad intervenire in questo contesto e inserirsi in queste opportunità formative che la fide si sta impegnando ad offrire padre sebastiano se oltre ad essere esperto in quest'ambito e di questo ringrazio per la disponibilità anche vicepresidente nazionale della fide grazie padre sebastiano per la disponibilità cominciamo questo nostro intervento solo alcune indicazioni di ordine pratico nella sezione domande alla vostra destra basta cliccare il triangolino e potete inserire delle domande saranno raccolte tutte poi nei prossimi giorni riceverete una mail dove potete rispondere a un questionario di gradimento scaricare l'attestato e visionare i materiali che non saranno solo quelli presentati oggi ma ci sarà anche un appendice dove padre sebastiano risponderà a tutti i vostri quesiti cercheremo di essere come sempre molto tempestivi nel darvi questo materiale perché sappiamo che questa questa situazione emergenziale ci ha portato a fare tutto e subito in una novità ma noi non ci vogliamo scoraggiare e intanto approfitto per dire domani parte la grande campagna vogliamo fare scuola vi attendiamo tutti alla conferenza stampa delle ore 17 30 perché è l'inizio di un percorso per guardare al futuro vogliamo dire ai nostri ragazzi e nostri bambini e nostri giovani che li stiamo aspettando che stiamo preparando una scuola sicura bella per loro una scuola nuova non è più la scuola che hanno lasciato a fine febbraio ma una scuola di questo nuovo contesto e avervi a questo momento di avvio sarà per noi anche un'occasione di sostegno e di supporto ma da domani comincerà veramente un progettare insieme come abitare la scuola da settembre 2020 attenzione non per settembre 2020 ma da settembre sarà un percorso interessante e coinvolgente e avervi come compagni di viaggio sarà sicuramente molto bello grazie a tutti per la partecipazione e vi auguro un buon pomeriggio e buon lavoro a padre sebastiano grazie 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 virginia e la nostra presidente e la ringrazio per questa fiducia che mi ha dato in questa circostanza ecco io svolgo il ruolo di rspp e faccio anche formatore all'interno della nostra scuola erogazionisti qui in padova quindi ecco penso di condividere oggi con voi in questo incontro una riflessione considerando un po' la responsabilità che ciascuno di noi si trova ad esercitare e in questa situazione chiamiamola anche critica no mettendo in pratica delle indicazioni che a livello generale sono state date e in più momenti da quando è iniziato questo periodo di emergenza per tutelare la nostra salute e la salute altrui no noi in questo incontro parleremo di sicurezza ma in maniera un po' specifica penso sia un po' il desiderio di tutti noi cercare di capire come procedere e mettere in atto quanto ci è stato indicato da una serie di documenti che molto velocemente ecco rivisiteremo insieme parto con questa riflessione parlando di sicurezza all'interno delle nostre scuole che sono considerate delle aziende ciascuno di noi ha elaborato il cosiddetto documento di valutazione dei rischi quindi si analizzano gli ambienti si cerca di capire quale potrebbero essere delle situazioni da migliorare per la gestione delle attività che devono essere svolte da quando iniziato a questo momento critico del covid ci sono state alcune riflessioni nate proprio in merito anche al cosiddetto dvr e riflessioni che sono andate avanti potremmo dire nelle prime due tre settimane c'erano due ipotesi per fronteggiare questo momento critico del covid che risulta un rischio biologico le aziende cosa devono fare devono aggiornare il dvr o devono ottemperare a qualche altra forma di procedura per andare a garantire i propri lavoratori e perché si trovino in una situazione di sicurezza e per tutelare la propria salute ecco allora la riflessione parte proprio da da questa duplice e problematicità che all'inizio si è si è espressa nella nel capire come procedere e noi ricordiamo che i rischi che sono praticamente la valutazione che noi facciamo all'interno del dvr e sono dei rischi professionali cioè legati all'attività che svolge un determinato lavoratore e in questo caso specifico noi parliamo di rischio biologico e sappiamo che il rischio biologico all'interno del documento di valutazione dei rischi è legato al tipo di professione che viene svolta quindi il rischio biologico non è legato a tutte le professioni lavorative ma in base alla tipologia di azienda e in base alla mansione che viene svolta pensiamo un po all'interno delle nostre attività agli ambienti scolastici quando può essere presente il rischio biologico sicuramente per chi svolge un'attività legata alla pulizia degli ambienti per chi svolge un'attività come educatrice nel micronido quindi anche lì c'è la rilevazione del rischio biologico pensiamo ai nostri ragazzi che sono equiparati ai lavoratori quando si trovano a svolgere delle attività in un laboratorio di chimica va bene quindi il dvr ci porta ad analizzare il rischio biologico in determinati contesti e per determinate persone parto un po ricordando a tutti noi la caratteristica del dvr può essere utile per fare la successiva riflessione di un'applicazione di questo criterio per rilevare il rischio e come mettere in atto una serie di criteri per tutelarci ricordiamo appunto che il documento 8108 è fatto da 13 titoli il titolo decimo ricorda appunto esposizioni ad agenti biologici ecco tutti i titoli che trattano i diversi argomenti sono correlati da alcuni allegati con delle procedure per mettere in atto i contenuti della legislazione 8108 ci sono anche le cosiddette sanzioni sanzioni amministrative e penali io adesso lo faccio semplicemente scorrere perché non è questo il contenuto della nostra riflessione quindi nel documento di valutazione dei rischi troviamo un rischio per la sicurezza degli ambienti degli strumenti che si usano il rischio legato alla salute e rischi trasversali nella valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza si deve attivare un programma di prevenzione per cercare di eliminare i rischi ma in alcune circostanze non possiamo prevedere di eliminare totalmente dei rischi ma nello stesso momento cerchiamo di lavorare come si dice in sicurezza anche quando noi sempre legato un po alla riflessione dell'8108 diciamo che si devono utilizzare i cosiddetti di dispositivi di protezione individuale no i dispositivi di protezione individuale non elimina un rischio diminuisce si dice il danno che ne consegue per la salute contribuendo così alla riduzione di quella che può essere una malattia o un infortunio in un luogo di lavoro quindi nel dvr si parla di come applicare una delle procedure per quanto riguarda il rischio biologico ecco sto facendo scorrere un po queste slide dove ci sono c'è un'analisi delle varie tipologie di agenti biologici rischio individuale collettivo 1 2 3 o 4 in base alla gravità insomma del rischio e per andare a concludere nella valutazione che viene fatta praticamente il dvr richiede che ci sia un procedimento che vada a valutare il rischio stesso attivare dicevamo le misure protettive e preventive protettive e quali sono le eventuali procedure di emergenza ok quindi questo è quello che è previsto dal documento 8108 per i rischi biologici e l'emergenza del coronavirus rappresenta invece un problema di salute pubblica e in questa fase di continua e rapida evoluzione la gestione delle misure di prevenzione protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle autorità sanitarie competenti e quindi ecco vedremo un attimo i decreti e le ordinanze che vengono emanati da governo regioni che sono atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal decreto legislativo 8108 o da altre leggi in relazione quindi a quanto sopra previe verifiche effettuate lo specifico obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto 8108 suddetto in relazione al covid è di peso minore rispetto alle citate normative speciali emanate in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività quindi ecco dopo una fase iniziale di preoccupazione all'interno delle aziende cosa deve fare il datore di lavoro deve aggiornare il dvr o deve fare altro c'è chi diceva che bisogna prevedere una un incrementare all'interno del dvr e una parte che andasse a descrivere come intervenire in caso di rischio biologico ma poi con tutta la documentazione che è stata emanata si è capito che era il caso di andare a creare un altro strumento per andare a rilevare quello che è il rischio e come tutelare i lavoratori da questo rischio ecco che poi si è creato il cosiddetto protocollo di cui noi parleremo che è attualmente lo strumento che è stato creato proprio per andare a creare questo questo monitoraggio all'interno del delle aziende per contrastare quello che è il contenimento della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro e questo appunto ci serve per interdisciplinare anche modi e tempi del lavoro durante quella che è una fase che è chiamata di emergenza sanitaria quindi ecco il protocollo viene applicato in un momento particolare di emergenza sanitaria partiamo un attimo ricordando che il tutto storicamente si manifesta almeno cominciando a fare riferimento alla normativa che adesso esamineremo il 23 febbraio quando è è uscita la comunicazione del cosiddetto decreto legge del 23 febbraio dove si davano determinate disposizioni di emergenza e questo è il decreto legge che ha questi cinque articoli misure urgenti per evitare la diffusione del covid ulteriori misure di gestione dell'emergenza attuazione delle misure di contenimento disposizione finanziaria entrata entrata in vigore sempre con la stessa data viene emanata un altro il dpcm 23 febbraio disposizione attuative al decreto legge del 23 febbraio 2020 che dice che le misure urgenti di contenimento del contagio deve essere preso in considerazione in questa fase nei comuni delle regioni lombardia e veneto perché ricordiamo ecco questa espansione del virus in italia in questi in queste regioni principalmente nella fase iniziale misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale applicazione del lavoro agile esecuzione delle misure urgenti l'ha legato e metteva qui i comuni interessati al contenimento del contagio in questo primo allegato erano presenti solamente alcuni comuni della lombardia ok dopo questo decreto iniziale abbiamo ecco qui li ritroviamo all'interno del sito ministeriale abbiamo una serie di si chiamano dpcm decreti presidente consiglio dei ministri sono praticamente i dpcm hanno lo scopo di dare delle indicazioni è così definito un atto amministrativo che non ha forza di legge e che come i decreti ministeriali ha il carattere di fonte normativa secondaria e serve per dare attuazione a norme e o varare regolamenti quindi ecco vedete un po qui storicamente dopo il 23 febbraio noi abbiamo un dpcm dell'otto marzo 9 marzo 11 marzo 22 marzo 28 prima aprile 10 aprile 26 aprile fino all'ultimo ok man mano questi dpcm che cosa evidenziano evidenziano la problematica che si sta sviluppando quindi in quello dell'otto marzo viene ribadito ancora una volta come deve essere contenuto questo contagio che si è sviluppato in buona parte delle regioni del nord si dice quali devono essere le misure di contrasto si danno informazioni sulla prevenzione e si dice che si deve monitorare quanto sta avvenendo ok in questo primo dpcm viene praticamente messo un allegato dove si fa la descrizione delle cosiddette misure igienico sanitarie che bisogna tenere in considerazione lavarsi spesso le mani evitare il contatto ravvicinato con persone abbracci tutte quelle cose che già conosciamo come indicazioni va bene questo avviene come informazione di un comportamento da assumere in maniera generale in tutti gli ambienti non solo quelli lavorativi possiamo dire ecco queste serie di misure igienico sanitarie successivamente quello del 9 marzo quindi il giorno successivo e mette in evidenza che cosa nei nei suoi capitoli nei suoi articoli il potenziamento da dare alle risorse umane nel servizio sanitario quindi non so se ricordate un po in quel periodo 9 marzo come si è sentita la necessità di capire come il servizio sanitario nazionale doveva far fronte a questo male che si era sviluppato quindi ecco il dpcm del 9 marzo mette in evidenza proprio questo le misure urgenti per il reclutamento dei medici l'incremento anche lavorativo e per chi lavora all'interno delle aziende sanitarie andiamo velocemente a quello dell'11 marzo ok in quello dell'11 marzo ecco è molto importante questo perché abbiamo il primo dpcm che allarga maggiormente la problematica a livello nazionale dicendo quale sono ancora una volta le misure urgenti di contenimento per il contagio nel territorio nazionale e fa un elenco di quelle attività che rimangono aperte ok e i servizi legati alla persona questo sarà importante come riferimento dpcm perché il 14 marzo avremo il primo protocollo ok lo vedremo dopo adesso fatemi scorrere un po i documenti il 22 abbiamo un altro dpcm dove ancora una volta in questo dpcm viene fatta chiarezza di quelle che sono le attività lavorative che rimangono aperte durante questo momento di pandemia esce l'elenco del cosiddetto dei cosiddetti codici a teco perché con quello precedente mentre si diceva che bisognava andare a contenere la problematica del virus con e con le giuste modalità i comportamenti non era stata fatta una descrizione di tutte le attività lavorative ma quelle non necessarie era stato detto qui ecco nel 22 marzo viene dato l'elenco dei codici a teco quindi delle aziende che rimangono aperte tra le varie aziende c'è anche il codice a teco 85 istruzione quindi sappiamo che se anche dal 23 febbraio i ragazzi la settimana successiva dopo le vacanze di carnevale non tornavano a scuola l'azienda scuola per determinati servizi e rimane è rimasta aperta va bene dpcm del 28 marzo composizione del fondo di solidarietà andiamo avanti primo aprile si dice che anche le attività sportive di ogni ordine disciplina nei luoghi pubblici vengono vengono praticamente sospese e il 10 aprile ecco qui c'è un altro dpcm che comincia a mettere in evidenza che cosa una riapertura di alcune attività lavorative sempre con l'attenzione da dare e con determinate misure di contenimento al contagio è fatto da otto articoli e cinque allegati e qui troviamo un secondo nei vari nei cinque allegati troviamo un secondo elenco di quelle che sono le misure igienico sanitarie che sono previste viene aggiornato a quello precedente che vi avevo detto dell'otto marzo ok passeremo poi al dpcm del 26 aprile quello che va a preparare la fase 2 con la riapertura di buona parte delle aziende che erano state chiuse ok allora è importante che facciamo questa riflessione di questi di questi documenti perché ci aiutano a capire come dobbiamo mettere in pratica questi contenuti all'interno di alcune procedure previste nel protocollo questo è come dire l'obiettivo che poi dobbiamo raggiungere quindi queste cose già ve le ho segnalate ve le ho descritte prima ecco qui un'altra slide in cui vi ripresento i dpcm di cui abbiamo appena preso visione attenzione ho messo delle lineette azzurre al dpcm dell'11 marzo perché ecco quello che vi dicevo dopo questo dpcm viene creato il primo protocollo adesso vedremo anche come tutti questi documenti fanno sempre riferimento al primo decreto legge del 23 febbraio va bene cominceranno a fare riferimento a un altro decreto legge che sarà il decreto legge del 25 marzo quelli i dpcm che cominciano il primo aprile di fatti vedete qui che non si fa più riferimento al decreto legge del 23 ma 25 marzo l'ultimo dpcm del 26 aprile comunque ritorna a fare riferimento al decreto legge del 23 febbraio cosa ci dice di importante il decreto legge del 25 marzo ci sono quattro articoli ricordano ancora una volta misure urgenti per evitare la diffusione del covide attuazione delle misure di contenimento misure urgenti di carattere regionale e infra regionale sanzioni e controlli ecco qui tutto tutto come dire le varie procedure anche per le uscite di casa con la certificazione l'autocertificazione quant'altro no questi documenti devono riportare a noi un po la mente alla mente come dal mese di marzo aprile c'è stata una serie di indicazioni per capire come gestire il rischio covide però ecco in tutti questi dpcm ci sono state date tante indicazioni non sempre c'è stata la possibilità di avere un quadro abbastanza chiaro per capire come intervenire all'interno delle aziende ecco la funzione che ha avuto il protocollo il primo protocollo nel 14 marzo e poi il protocollo di adesso che è stato aggiornato il 24 aprile quindi ecco 14 marzo protocollo condiviso di regolamentazione della diffusione delle misure chiedo scusa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid negli ambienti di lavoro la tutela della salute dei lavoratori e l'obiettivo è la tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro in particolare il documento prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione ok qui abbiamo vediamo se mi si apre eccolo qua le indicazioni date dal da da conte che dice dopo 18 ore di un lungo e approfondito confronto è stato finalmente siglato tra sindacati e associazioni di categorie il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro per il bene del paese per la tutela della salute di dei lavoratrici e lavoratori l'italia non si ferma ok quindi ricordo che i decreti e le ordinanze che vengono emanati che sono stati emanati da governo regioni sono atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti appunto dal decreto legislativo 81 08 o da altre leggi qual è il protocollo che è stato creato il 14 marzo è questo che voi vedete ok le ulteriori misure di precauzione previste dal protocollo che le aziende devono adottare all'interno dei propri luoghi di lavoro oltre a quanto previsto dal dpcm dell'11 marzo sono da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione sono questi 13 punti che penso tutti quanti conosciamo poi ecco nella fase finale di questo incontro li andiamo un po a monitorare uno ad uno per capire come anche intervenire con delle procedure vi dicevo già prima che in accordo con il governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato questo protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità nell'ambiente di lavoro questo è stato aggiornato integrato il 24 aprile ed è inserito questo protocollo come allegato 6 del dpcm del 26 aprile del 2020 allora vedete qui un attimo adesso un confronto tra il protocollo che è stato emanato il 14 marzo va bene e il protocollo del 25 aprile la parte in rosso che voi vedete indica l'integrazione ci dice in questa prima parte nell'informazione che l'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni dei contesti lavorativi con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dpi per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio poi nella seconda parte modalità di ingresso in azienda ci viene ricordato è stato aggiornato integrato meglio l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da covid 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo la modalità prevista rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza qualora per prevenire l'attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione stiamo parlando di qualsiasi tipologia di azienda in questo momento altre integrazioni in questo del 25 aprile in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo manutentori fornitori addetti delle pulizie e vigilanza che risultassero positivi al tampone covid l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti l'azienda committente tenuta a dare all'impresa paltatrice completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale nella parte quarta per quanto riguarda la pulizia e sanificazione in azienda si dice nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di covid in aggiunta alle normali attività di pulizia è necessario prevedere alla riapertura una sanificazione straordinaria degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comune ai sensi della circolare così via precauzioni igieniche personali i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili nella declinazione delle misure del protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura e delle diverse attività dell'azienda si adotteranno i dpi idonei andiamo avanti ecco tutta questa parte organizzazione aziendale tiene conto un po dei criteri che si sono messi in atto per quanto riguarda lo smart working lavoro agile diminuzione delle ore lavorative riorganizzazione dell'azienda perché all'interno dell'azienda si possa creare la giusta tutela ai lavoratori per evitare i contagi ok e al numero 11 lavoratore al momento dell'isolamento deve essere subito dotato ove già non lo fosse di mascherina chirurgica e qui sempre sorveglianza e sanitaria medico competente prendiamo in considerazione quando vediamo i vari numeri del protocollo ecco era per farvi vedere come dal protocollo del 14 marzo a quello del 25 aprile ci sono state delle integrazioni ma le voci del protocollo e gli indicatori presenti all'interno del protocollo rimangono gli stessi sono 13 punti va bene allora il dpcm dicevo prima del 26 aprile fatto da questi dieci articoli quest'ultimo appunto per verso la riapertura appunto di quella che è definita la fase 2 trova questi dieci allegati l'allegato 6 quello che vedete qui è appunto il protocollo condiviso va bene quindi noi dobbiamo tenere in considerazione che cosa per attuare all'interno delle nostre aziende il protocollo i dpcm che abbiamo appena visto le norme circolari ordinanze del ministero della salute norme circolari le ordinanze regionali quindi sono tanti come dire i documenti a cui far riferimento ecco perché è importante avere almeno questa visione chiamiamola storica del percorso di questi documenti per capire come poi il protocollo ci porta a fare anche una certa sintesi su quello che diventa la modalità con cui noi andiamo a creare questa tutela della salute dei lavoratori all'interno dell'azienda io vi porto qua ad esempio come esempio le indicazioni operative per la tutela della salute degli ambienti di lavoro negli ambienti non sanitari della regione veneto facendo riferimento alla regione veneto perché ve lo faccio vedere perché questo è uscito il 29 aprile dopo l'aggiornamento del protocollo del 25 ok e dopo il dpcm del 26 la regione veneto ha dato delle ulteriori indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non non sanitari all'interno della propria regione tenete conto che il 29 4 si trova già la versione undicesima questo significa che man mano che sono usciti i vari dpcm la regione veneto ha utilizzato un proprio strumento di riferimento all'interno della regione aggiornato per 11 volte per mettere in pratica all'interno del proprio contesto territoriale quanto veniva quanto veniva detto all'interno di questi documenti ok lo esamineremo in alcune parti in quello che vi dico successivamente ecco passiamo un po' adesso anche se il tempo sono andato un po' troppo oltre con la descrizione teorica dei documenti andiamo a vedere adesso le varie fasi del protocollo per capire come comportarci nella negli adempimenti all'interno della nostra azienda che è la scuola ricordiamo che la nostra azienda codice a teco 85 non è mai stata chiusa però gli alunni non sono più venuti a scuola c'è stato un momento in cui c'era la presenza del dirigente scolastico di alcuni docenti a servizio ata durante tutto questo periodo comunque i docenti con l'autocertificazione potevano venire anche a scuola ma per quale motivo per l'organizzazione della didattica a distanza quindi potevano utilizzare un luogo adeguato sanificato dove avere la possibilità di produrre il materiale per la didattica a distanza ok quindi per alcune nostre scuole diciamo anche che comunità religiosa e scuola sono un unico ambiente quindi in questa fase precedente all'ultimo protocollo già sono state messe in atto delle procedure del protocollo precedente quindi quello attuale del 25 aprile per la fase 2 non va a creare qualcosa di nuovo all'interno di quelle aziende scolastiche dove c'è stata la presenza di alcuni lavoratori o anche dei religiosi stessi ma la procedura precedente vi ho fatto vedere viene integrata quindi andiamo al numero 1 del protocollo dice che l'azienda attraverso le modalità più idonee ed efficaci informa tutti i lavoratori in particolare le informazioni riguardano l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi ok di non poter fare ingresso in azienda se non si sta bene in salute e di dichiararlo ok perché non ci siano delle dei rischi di pericolo per la salute propria e per la salute altrui ma nello stesso momento di dichiarare se hanno avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni ecco prima parte dell'informazione poi ci dice anche l'impegno a rispettare tutte le disposizioni del datore di lavoro nel fare l'accesso in azienda l'impegno di informare tempestivamente e responsabilmente il datore in presenza di qualsiasi sintomo influenzale l'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni dei contesti lavorativi ok come avviene questo tipo di informazione in maniera direi molto semplice con quella che è una comunicazione che il datore di lavoro fa all'interno della della propria azienda prendendo in considerazione questi questi indicatori questi contenuti e dicendo cosa bisogna fare nel momento in cui si arriva all'interno dell'azienda ok mettere in pratica queste indicazioni poi vedremo eventualmente anche qualche modello facciamo riferimento a questa parte del sito del ministero dove il ministero stesso da quando ha emanato i protocolli i protocolli ha creato anche degli strumenti che sicuramente noi ne siamo a conoscenza per dare queste informazioni di ordine generale all'interno della propria azienda da affiggere all'ingresso dell'azienda da affiggere in alcuni ambienti in cui abbiamo avuto dei lavoratori all'interno della nostra azienda perché si ricordino si ricordino di mettere in pratica queste indicazioni ecco molti di questi li conoscete quelli un po più come dire esposti sono questi due va bene quindi ecco primo numero informazione non dobbiamo fare altro che tenere in considerazione queste voci ok andare a creare una comunicazione come datore di lavoro o sì come datore di lavoro dicendo che prima di entrare in azienda bisogna considerare tutti questi questi aspetti come comunicarla affiggendola in alcune parti all'interno dell'azienda spedendo un email avendo comunque tra virgolette in quella che in quelle che sono le procedure che vengono compilate la possibilità di dire a un eventuale visita di ispezione io a questo primo numero ho provveduto nel seguente modo cioè io posso dare attestazione che queste informazioni alla ai miei lavoratori in azienda leo date ok questo è importante quindi niente di particolare direi se non prestare attenzione a questi contenuti e a trasmetterli con una comunicazione modalità di ingresso in azienda ecco si rifà sempre al problema della temperatura corporea ok e il datore sempre in forma preventivamente il personale che non può entrare se negli ultimi 14 giorni ha avuto il contatto con qualche soggetto che risultato positivo vedete che si fa riferimento al decreto legge numero 6 del 23 febbraio quello che abbiamo presentato all'inizio va bene l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi dall'infezione del covi dovrà essere preceduto dalla preventiva comunicazione quello che abbiamo visto come aggiornamento in questo protocollo quello delle 25 aprile prevenire l'attivazione di focolari e eventuale necessità dei tamponi per i lavoratori va bene in questa fase qui della modalità dell'ingresso in azienda bisogna prestare attenzione a quella che è la normativa che riguarda la privacy ok andiamo ad un esempio molto concreto io faccio l'esempio all'interno della della mia scuola ok e sapete che era richiesto il termoscanner cioè quando tu entri in azienda devi verificare se c'è una temperatura maggiore alla 37,5 se è maggiore di 37,5 tu non lo devi andare a scrivere da qualche parte o non lo devi andare a dire agli altri collaboratori no ecco qui rientra la legge della privacy così anche se qualcuno ha avuto il contagio per con qualche positivo negli ultimi 14 giorni per cui ecco va tutelata la privacy in questo senso il personale prima dell'accesso in azienda può essere sottoposto al controllo della temperatura il datore di lavoro informa preventivamente il personale che intende fare ingresso in azienda ricordiamo preclusione dell'accesso a chi ha avuto contatto negli ultimi 14 giorni e in riferimento a questo rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito l'identificazione della persona e la registrazione del superamento della solida temperatura possono avvenire solo quando è necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso all'azienda ok l'importante è fornire un'apposita informativa sul trattamento dei dati al personale cosa fare in questo caso vi faccio vedere anche qui un semplice foglio cioè si dà l'indicazione alla lavoratore cosa deve fare nel momento in cui entra in azienda ok e nello stesso momento che viene tutelata la sua privacy un foglio con l'elenco del personale firma che prende visione delle indicazioni che vengono date dal datore di lavoro sul modo in cui bisogna procedere nel momento in cui si entra in azienda attenzione sempre nella modulistica che vedremo dopo è sempre necessario utilizzare il termoscanner ecco in una fase iniziale sembrava che fosse così tra l'altro mentre si dava questa indicazione termoscannere non se ne trovavano in commercio per cui io ad esempio all'interno della nostra azienda non avendo la possibilità dello strumento dello strumento ho chiesto un'autodichiarazione ai lavoratori che sono venuti a scuola dicendo mi firmi all'interno di questo foglio in cui vado a regolare l'ingresso in azienda come ecco tu entri in azienda e cosa stai dichiarando senza mettere nessun dato personale se non il nome cognome e quindi lo spazio per la firma ok quindi ecco per quanto riguarda la privacy ci sarebbero parecchie cosucce da dire in questo momento come riflessione ma ve le ritrovate poi in queste slide ecco modalità di accesso dei fornitori esterni anche qui andare a creare un criterio già qui vengono date indicazioni per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso l'ingresso può essere lo stesso di quelli dei dei lavoratori che che indicazioni abbiamo dato ai nostri lavoratori di venire al lavoro tutti quanti alle 8 sono 10 persone di arrivare tutte tutte 10 contemporaneamente quindi di creare un momento di affollamento all'ingresso dell'azienda no sicuramente saremo saremo andati a dare delle indicazioni dove diciamo che non si deve creare assembramento di persone all'ingresso quindi ecco chi gestisce l'ingresso per quanto riguarda dei fornitori deve garantire che non ci siano situazioni che creano compromessi per quanto riguarda il problema del contagio del covide qui si dice anche se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi individuare e installare servizi igienici dedicati dobbiamo andare a costruire un altro servizio igienico no se all'interno della mia portineria io ho un servizio igienico e c'è un fornitore che ha bisogno di andare al bagno andrà al bagno successivamente a chi ha l'incarico di andare a fare la pulizia e sanificazione degli ambienti igienici all'interno della mia azienda dirò di provvedere subito a pulire e appunto il servizio igienico questo va messo per iscritto all'interno delle indicazioni che vengono date a chi svolge questo incarico all'interno dell'azienda va bene anche qui sono tutte indicazioni sempre che riguardano la modalità di accesso dei fornitori vanno sintetizzate in quella procedura che va comunicata all'interno dell'azienda da parte del datore di lavoro pulizia e sanificazione in azienda ok l'azienda si cura la pulizia giornaliera la sanificazione ok nel caso di presenza di una persona con covid all'interno dei locali aziendali ok si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare sempre 22 febbraio ok e in questo caso attenzione si sta parlando di sanificazione ma parleremo non solo di sanificazione ma di pulizia e anche di un altro termine che vi dico dopo ok eccolo qua pulizia sanificazione disinfezione decontaminazione ok sono processi legati alla sì alla pulizia degli ambienti degli oggetti che vengono utilizzati per impedire alle persone di contrarre contagio ok pulizia sanificazione disinfezione decontaminazione più o meno simili come termini indicano un processo differenziato dove la sanificazione la disinfezione decontaminazione mirano a intervenire per evitare e cioè evitare e compiere un procedimento dove si distruggono i microrganismi patogeni così dice appunto la disinfezione evitare che ci sia il contagio ok e qui adesso so che forse per qualcuno che sta ascoltando cominciano i primi problemini perché e come fare chi lo deve fare quando bisogna farlo ok ho ricevuto delle informazioni che devo procedere con serve il generatore e dello zono servono altre strumentazioni per compiere la sanificazione devo sicuramente fare la disinfezione o la decontaminazione calma dobbiamo garantire una sanificazione con dei criteri che questi documenti il protocollo sanitario oms e in questo caso io riporto lo spisa della regione veneto ma anche come si dice sempre il nostro ministero della salute ci dà ok cosa si intende per disinfettazione igienizzazione pulizia e me lo presenta in questo poster ok dicendo che devo utilizzare determinati prodotti che mi danno la garanzia di fare effettivamente una sanificazione ok anche qui se voi andate a fare un giro un po tra i vari siti di quelle che sono le aziende che propongono sia la pulizia sia la sanificazione e nello stesso momento come vi dicevo la disinfezione o decontaminazione mettono in evidenza questi tre processi poi in base come dire all'interesse che possono avere di proporre la propria offerta di servizio ti dicono che c'è bisogno del loro intervento per fare determinate cose invece non è così la sanificazione la può fare chiunque all'interno dell'azienda ok l'importante è che noi abbiamo una persona che svolga questo compito che abbia ecco il ruolo di sanificare gli ambienti con quelli che sono i criteri previsti se io non ho il personale che adempie a questa procedura ma ho un'agenzia che mi fa questo servizio ecco lo farà l'agenzia ma prima di passare a una disinfezione e a una decontaminazione devo capire se effettivamente ho bisogno in questo determinato momento all'interno della mia scuola di fare una procedura del genere mi sento di dire con molta tranquillità che essendo chiusa la scuola per gli ambienti di attività scolastica non c'è in questo momento il bisogno di fare questa procedura di disinfezione di decontaminazione anche perché questa procedura deve essere ripetuta ogni 10 15 giorni ok ma se c'è stata la presenza sicura reale di un contagio all'interno dell'azienda di aver percepito che c'è stato lo sviluppo appunto del virus noi abbiamo visto le immagini ad esempio all'interno degli ospedali come erano diverse le modalità di intervento c'erano degli infermieri che pulivano con dei prodotti appositi e facevano un processo di sanificazione e di disinfezione altre volte l'utilizzo di alcuni macchinari quindi in questo momento non andiamo a crearci l'ansia il timore che noi non mettiamo in pratica il protocollo se non abbiamo esempio il termoscanner per quelli che sono i lavoratori che in questo momento entrano in azienda o non abbiamo chiamato un'azienda a compiere una disinfezione a meno che in questo periodo non ci sia stata una forma di contagio per cui devo prevederlo ma anche in questo caso la disinfezione la decontaminazione possono essere attuati non solo da una figura professionale esterna all'azienda ma da chi ha le competenze anche all'interno dell'azienda stessa ok quindi ci sono varie modalità di sanificazione ambientale io qui ho riportato alcuni siti che ti dicono ecco questa distinzione che vi ho fatto adesso tra la pulizia sanificazione e decontaminazione ti dicono le aziende che ti fanno il certificato e così via ti fanno questa distinzione ti dicono quante volte sono i tempi in cui bisogna intervenire qui purtroppo non mi si apre vediamo se mi si apre no vediamo se ve lo trovo qui portate pazienza io in questo periodo documentazione eccola qua all'interno della nostra scuola abbiamo fatto la richiesta di determinati prodotti ok che sono presenti nella prassi di decontaminazione del protocollo oms protocollo sanitario oms ok per cui l'utilizzo di questi prodotti all'interno della mia azienda scuola erogazionisti da parte del personale che sta facendo la sanificazione o anche la disinfezione all'interno della struttura se c'è bisogno con questi prodotti viene garantita la l'agenzia in cui noi prendiamo i prodotti mi ha creato questo protocollo mi ha detto guardi padre sebastiano stia tranquillo questo può andare a giustificare che voi avete compiuto questi processi all'interno della vostra azienda ok precauzioni igieniche personali in particolare si ricorda idonei mezzi detergenti per le mani frequente pulizie delle mani e i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori ricordate che quest'ultimo numero è stato aggiunto dal protocollo precedente di quello del 14 marzo ok altro campo un po particolare i dispositivi di protezione individuale ok legati alla disponibilità in commercio mascherine secondo e in conformità appunto all'organizzazione mondiale della sanità mascherini la cui tipologia corrisponde alle indicazioni dell'autorità sanitaria e così via ok e favorire la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo l'indicazione dell'omse e problema mascherine qui io mi rifaccio ad esempio le indicazioni che sono state date in regione veneto dal nostro presidente zaia quando esci di casa deve portare la mascherina è l'obbligo c'è l'obbligo appena esci di casa di portare la mascherina che cosa significa che tu quando esci appena metti piede fuori di casa devi metterti la mascherina e qualsiasi cosa che stai facendo hai bisogno di tenere la mascherina addosso ecco ti viene data questa indicazione perché se tu incontri mentre sei fuori della tua casa in cui sei tutelato delle persone ti devi proteggere ma se tu in quel momento stai facendo anche una passeggiata da solo e non hai nessuno accanto a te poi anche abbassare benissimo la la mascherina le indicazioni che vengono date dell'utilizzo della mascherina deve essere come dire differenziata dalla tipologia di mansione lavorativo sappiamo che chi lavora all'interno dei supermercati ad esempio devi indossare la mascherina per tutto il tempo se io all'interno della mia azienda o la segretaria che viene in segreteria e si trova a lavorare da sola tutta la giornata in uno spazio di 4 metri per 4 metri una bella stanza ed è da sola tutta la giornata perché compie attività amministrative non ha bisogno di tenere la mascherina addosso certo l'avrà indossata uscendo di casa quando è arrivata eventualmente in azienda se stava incontrando si è incontrato delle persone per precauzione ha indossato la mascherina quando si trova a svolgere la mansione lavorativa da sola può togliersela nel momento in cui sta andando a prendere un caffè alla macchinetta e sa che eventualmente potrebbe incontrare un altro collega porta con sé la macchina e la mascherina ed eventualmente sempre alla dovuta distanza quando ha finito di bere il caffè si rimette anche la mascherina si dice che la mascherina deve essere indossata se non si riesce a mantenere almeno un metro di distanza ok allora solamente velocemente anche qua perché il tempo scorre quali sono le tipologie questo è un pdf abbastanza aggiornato dell'aifos associazione italiana formatori ed operatori della sicurezza del lavoro che ti dice le tipologie di mascherine che funzione hanno no quelle che noi conosciamo maggiormente la mascherina chirurgica è una protezione verso l'esterno ok trattiene le sole particelle emesse da chi la indossa non ha la funzione di proteggere il portatore da agenti patogeni esterni viene utilizzata per evitare che chi la indossi propaghi il virus attraverso starnuti e colpi di tosse ok ricordate all'inizio portare la mascherina sì o no all'inizio il primo la prima il primo dpcm diceva che non era necessario indossare la mascherina perché se non sei positivo non la devi indossare poi successivamente è cambiato il modo e la motivazione per cui è il caso di portare la mascherina quindi siamo passati dobbiamo portare la mascherina in tutti gli ambienti l'altra tipologia di mascherina una protezione verso chi le indossa no filtrano l'aria ispirata proteggendo chi le indossa ed alcune tipologie filtrano anche l'aria ispirata va bene quindi anche qui quando parliamo di mascherine mascherine sì mascherine no la mascherina serve va utilizzata nella giusta modalità secondo le indicazioni che sono state date secondo il contesto in cui ci si trova ok sempre nell'ultimo dpcm quello del 26 aprile viene data un'ulteriore indicazione sull'uso della mascherina e delle tipologie di mascherina vedete chi è all'obbligo chi non ha l'obbligo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico sui mezzi di trasporto in tutte le occasioni chiedo scusa in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza si parla in questo caso anche di mascherine di comunità quindi non solo per le due tipologie di mascherine che io vi ho fatto vedere poc'anzi e rifatti qui all'articolo 3 del dpcm del 26 aprile dice misure di informazione prevenzione sull'intero intero territorio nazionale si parla appunto di queste mascherine di comunità possono essere utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine in monouso mascherine lavabili anche auto prodotte in materiale multistrato idonee a fornire una adeguata barriera e al contempo che garantiscono comfort e rispediabilità forme aderenza adeguati che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio ok quindi in base alla tipologia di mansione lavorativa in base alla circostanza in cui noi ci troviamo dobbiamo utilizzare la mascherina che è un dispositivo di protezione individuale che ci va a garantire la possibilità di non contagiare o di non essere contagiati per le vie respiratorie in base ripeto al contesto in cui ci troviamo anche qui tutta una serie di riflessioni che sicuramente ciascuno di noi fa e deve fare i lavoratori sulla responsabilità propria dell'uso della mascherina vedo che il tempo passa vi do questa indicazione molto veloce all'interno sempre del ministero della salute malattie infettive c'è uno spazio molto interessante dove vengono fatte alcune domande e vengono date anche delle risposte io qui ve ne propongo in tutto l'elenco che c'è quattro ok quale sono il coronavirus e il nuovo coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona sappiamo di sì e come viene trasmesso ok come si trasmette il nuovo coronavirus da persona a persona saliva tossendo o stanutendo contatti diretti personali le mani ad esempio toccano con le mani contaminate non ancora lavate bocca naso occhi ok in casi rari il contagio può avvenire attraverso la contaminazione fecale quindi ecco questa è la modalità con cui avviene il contagio come si diffonde ok è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso contatto con le gocciadine del respiro quindi non in altre modalità il virus non rimane per l'aria quindi ecco io che devo fare la procedura che sono il responsabile per la sanificazione dell'ambiente e devo preoccuparmi di pulire alla mia tastiera o della tastiera altrui il tavolo di lavoro perché qui ci può essere il contagio ma non nell'aria ok quanto durerà questo virus anche qui secondo il ministero della salute dice che le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore anche se ancora in fase di studio anche qui c'è chi dice non è vero che sono solamente due ore c'è l'ipotesi che duri anche nove giorni io faccio riferimento a quello che dice questo sito se dura anche nove giorni ecco in questo caso se devo intervenire per una igiene di non solo di sanificazione ma di disinfezione dell'ambiente in quel caso lì se lo faccio in un determinato ambiente e so che il virus non dura più di nove giorni una volta che ho fatto una procedura di disinfezione sto tranquillo che il virus non è più presente ok gestione spazi comuni mense e così via in base agli spazi che sono stati attivati in questo momento all'interno dell'azienda bisogna ricordare sempre il mantenimento della distanza ventilare il luogo ecco tutte indicazioni presenti ripeto nel protocollo che vanno sintetizzate da parte del datore di lavoro e trasmesse come procedure che il lavoratore deve adempiere all'interno dell'azienda organizzazione aziendale qui se ricordiamo un po sempre il dpcm dell'undici marzo dal quale si è creato il primo protocollo ci ricorda disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione ricorso allo smart work c'è tutta quella parte che riguarda la riorganizzazione degli ambienti e dei tempi lavorativi va bene ci ricorda è necessario rispetto del distanziamento sociale organizzazione aziendale turnazione anche qui ve lo dicevo prima vado un po velocemente perché siamo all'otto dobbiamo arrivare al 13 gestione entrata e uscita dei dipendenti ecco anche qui ti viene indicato all'interno della comunicazione che il datore di lavoro fa ai propri lavoratori dice qual è il criterio dell'azienda come ci si comporta spostamenti interni riunioni eventi interni e formazione cioè si dice che all'interno delle aziende bisogna evitare di fare assemblamento di persone si invita a fare formazione a distanza e così via ma sappiamo che in questo momento all'interno delle nostre strutture scolastiche non c'è assemblamento di personale ok se non ecco una minima presenza però sono indicazioni importanti perché con la presenza dei lavoratori attualmente in azienda che uno può avere deve considerare queste indicazioni ok gestione di una persona sintomatica in azienda come comportarsi ok nel momento in cui si rileva che effettivamente c'è un caso che potrebbe essere di covid perché la persona dice di sentirsi male ok non si sente bene in quel caso se ricordate prima si dice subito provvedere a mettere la mascherina ma come non ce l'aveva la mascherina ma il datore di lavoro non ha provveduto all'inizio dell'attività lavorativa di a distribuire i dispositivi di protezione individuale e dove andiamo a verificare se sono stati dati questi dispositivi può darsi che in determinate circostanze non sia stato dato in quel caso bisogna utilizzarlo ok quindi l'intervento del medico competente come riferimento se ricordate non si va direttamente subito al pronto soccorso ma cercare di capire come agire successivamente con la col monitoraggio del medico competente ok aggiornamento del protocollo di regolamentazione ecco l'ultimo numero il 13 ti dice che per andare a compilare questo protocollo all'interno dell'azienda si deve creare il cosiddetto comitato da chi è composto il comitato è composto principalmente dal datore di lavoro il quale può fare riferimento anche per la consultazione all'RSPP all'RLS e eventualmente far convalidare anche il protocollo da una supervisione del medico competente non è non c'è il bisogno che il medico competente faccia parte del comitato ma è bene che dia una supervisione al protocollo e che casomai lo siglia anche lui con la firma qui vedete che emergono le stesse figure che sono presenti all'interno del documento di valutazione dei rischi cioè di chi ha le competenze per andare a fare una valutazione di come gestire i rischi all'interno di un'azienda tenendo in considerazione comunque criteri diversi che sono proposti all'interno del protocollo allora molto velocemente adesso vi faccio vedere alcuni strumenti che possono aiutarci a capire come vengono messi in atto questi 13 punti per la compilazione del protocollo all'interno delle nostre aziende adesso devo far memoria di cosa ho caricato prima lista cosa abbiamo qui ecco sì abbiamo una prima modalità questo modulo che si trovava in internet in cui ti viene ricordato cosa vai a rilevare all'interno dell'azienda per evitare la diffusione del contagio covid ok consultazione delle figure aziendali sono state consultate sì no quali sono vedete quale azione informa quale azione è stata compiuta ok qui in un'unica lista sono messi 30 punti di quale azione tu hai compiuta noi vedremo che questi punti buona parte comunque sono presenti anche nel protocollo nei 13 punti però questa è una strutturazione di modulo precedente al protocollo del 14 marzo ok quindi nel primo momento c'è stato chi si è organizzato in quella forma lì protocollo del 14 marzo ecco questo è un protocollo scaricato da internet marzo vedete dove qui si rifà ai 13 punti anzi mette altri capitoli e anche allegati io ad esempio nella nostra pratica della modalità di ingresso sono andato a mettere questa parte in cui dico che il personale quando accede in azienda non è sottoposto al controllo della temperatura non è previsto qui il controllo della temperatura corporea all'ingresso dell'azienda il dottor il datore di lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il personale chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell'accesso a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi e poi sono andato a dire che dichiara entrando in azienda che ha una temperatura inferiore al 37,5 perché io ho detto una cosa del genere perché se vado a fare riferimento a quanto mi dice il documento della regione veneto ok che vi ho detto quello del 29 aprile se io vado a vedere la voce rilevatura temperatura corporea ok mi dice la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci da evitare l'accesso dei soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti di rischio si precisa che è consentito identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura corporea individuata solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che ha impedito qui il discorso della privacy ok poi mi dice si ritiene altri sì la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi soggetti ok la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una dichiarazione anche verbale relativa allo stato di salute generale e all'assenza di sintomi simili simili influenzali quale febbre tosse difficoltà respiratorie io nella mia pratica all'ingresso ogni mattina i lavoratori che vengono mettono la firma dove c'è ci sono queste indicazioni che riguardano appunto il criterio con cui un lavoratore entra all'interno della mia azienda sempre del 14 maggio questo e della regione liguria se non ricordo male ecco qui ritroviamo anche qui la strutturazione dei 13 punti con alcuni allegati che sono le indicazioni che vengono date anche dai manifesti che vi ho fatto vedere precedentemente all'interno del sito del ministero della sanità che ci dice di dare le giuste indicazioni ai lavoratori no in questo altro vediamo cosa ho messo sì questo è uno schema molto semplice in cui si va a ricordare quale procedura si è dempiuta o io vi presento quella che ho fatto all'interno della nostra azienda i 13 punti del protocollo vedete informazione modalità di ingresso precauzioni igieniche personali dispositivi di protezione individuale non ve li leggo tutti quei contenuti che noi abbiamo visto in maniera dettagliata anche un po velocemente di alcuni sono riportati qua io ho attuato o non ha attuato questa indicazione all'interno della mia azienda se l'ho attuato lo scrivo se non l'ho attuato e non lo devo scrivere ok quindi questo è il protocollo del 27 4 che ho fatto ho compilato all'interno della nostra azienda e io vado qui adesso ve lo ripropongo perché poi ve lo metto anche a disposizione vedete è un file excel dove tu in base a quello che sta scritto puoi andare a inserire se è stato attuato non attuato parzialmente attuato non attinente ok questo è nuovo questo nuovo sono le integrazioni che ritroviamo sempre in forma interrogativa del protocollo del 25 perché io ho utilizzato questa forma di protocollo sia quello del 14 qua c'è l'integrazione delle voci presente nel protocollo del 25 ok questo è uno schema molto semplice dove però quello che io metto qui come attuato ok deve avere all'interno della mia documentazione all'interno dell'azienda una prova che io ho fatto questa cosa quindi è stato attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per l'attività che possono essere svolte al proprio domicilio attuato come l'ho attuato i docenti e lavorano da casa eventualmente ad alcuni lavoratori ho ridotto il lavoro il tempo lavorativo sono andato a mettere in pratica degli ammortizzatori sociali e ho riorganizzato il lavoro in base a tempi diversi quindi ecco devo dare tracciabilità all'interno della mia azienda con la documentazione di quello che ho adempiuto considerando appunto quanto presente all'interno delle voci del protocollo stiamo quasi terminando vediamo cosa ho messo qui ecco questo è del 26 aprile protocollo di sicurezza aziendale ecco questa è un'altra modalità io vi ho fatto vedere quella che ho adottato io qui vedete che ci sono i vari punti qui ha messo anche aggiornamento del protocollo vedete è il tredicesimo qui allegato del dpcm del 26 aprile autodichiarazione e segnaletica ok lo scorro molto velocemente ecco questo qui ricorda la segnaletica come ci si comporta all'interno dell'azienda per ottemperare a quanto il datore di lavoro ha trasmesso all'interno del protocollo ok quindi ricordiamoci se io scrivo nel protocollo che ho adempiuto determina queste procedure così come presenti nel nel protocollo del 25 aprile devo avere la documentazione raccolta di quello che ho compiuto ecco questo è un altro che ho scaricato ieri è per i cantieri edili ok del 4 5 attenzione interessante perché questo si rifà ai 13 punti questo può esservi di aiuto perché porta anche l'esempio no obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in presenza di febbre ok distribuzione materiale informativo mediante i doni e canali aziendali come ho informato i miei lavoratori su questo ecco io ho fatto la comunicazione scritta messa all'ingresso ho mandato via email la comunicazione ho utilizzato vari strumenti utilizzare materiale di facile comprensione per tutti i lavoratori favorendo immagini e contenuti è possibile scaricare le informative misure generali di prevenzione e così via esempio allegato informativo ecco qua da una serie di suggerimenti di come procedere nel mettere in pratica i 16 punti va bene può essere utile per un confronto per una riflessione su quello che si deve fare questa è una guida operativa guardate questa è quella del 14 maggio il primo protocollo quello che vi ho detto all'inizio settore di appartenenza dell'azienda azienda che opera in settore sanitario e nella quale nel proprio dvr era già stato valutato il rischio biologico dovrà essere rielaborata la valutazione del rischio sulla valutazione del rischio biologico professionale e aggiornato il dvr questa è la fase di riflessione che si faceva precedentemente nella prima fase quando non era stato definito il protocollo ma c'era la duplice valenza di dire andiamo anche ad aggiornare il dvr poi la seconda settore non sanitario dove nel quale nel proprio dvr non era già stato valutato il rischio biologico va fatto secondo le indicazioni appunto del protocollo e della normativa vigente ecco questa è la comunicazione che io avevo fatto il 14 aprile dove dicevo che in attesa di ricevere il termometro a raggi infrarossi purtroppo in commercio con acquisto immediato sono esauriti per verificare con lo strumento la vostra temperatura se prima di uscire di casa percepite di non sentirvi bene in salute verificate se la vostra temperatura corporea è superiore a 37,5 caso mai ecco non venite lavoro perché la indicazione precedente diceva in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti con un obbligo di allontanamento non mi diceva allora che poteva fare anche un'autodichiarazione adesso in quella successiva invece è presente quella che vi ho fatto vedere ecco questo l'esempio il 2 maggio indicazioni di applicazioni del protocollo vado a ricordare le stesse voci e dico cosa ho effettivamente attivato ok questo lo fa il datore di lavoro il mio superiore con il quale corroboro comunicazione sempre come io ho messo in pratica all'interno della mia azienda le indicazioni sì è sempre la stessa chiedo scusa mandare al 14 indicazioni in ingresso in azienda va bene vi sto facendo vedere un po di modulistica rilevazione della temperatura dal decreto pagina 7 decreto 29 04 2020 della regione veneto ok dove io dico si ritiene altresì che la temperatura possa essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione ecco io dico ai dipendenti ai lavoratori che noi manteniamo questo criterio quindi loro leggono questa documentazione pongono la firma al momento dell'ingresso non è l'unico criterio da adottare se ne possono adottare diversi l'importante che in base a quello che dice il protocollo io posso dichiarare quale come ho agito per mettere in pratica quella procedura 15 vediamo un po ecco qui adozione di dispositivi individuale anche qui il dvr ti dice che ogni volta che dai dispositivi deve andare a fare il verbalino ok io adotto un sistema diverso in questa fase di emergenza do un certo numero di mascherine a persona do i guanti dico direttamente che quando hanno terminato devono andare in un luogo per richiedere gli altri la segreteria scolastica ma nello stesso tempo cosa voglio dire qui non ho scritto in un altro documento non potete rimanere senza dispositivi da poter utilizzare quindi ecco la responsabilità che viene data anche al lavoratore quindi non è un delegare per non essere responsabile ma un coinvolgere in quella che è la responsabilità stessa va bene ecco qui sotto anche per quanto riguarda la privacy viene data l'informazione vediamo l'ultimo per concludere ecco questa ad esempio è la scheda dove chi fa le procedure di sanificazione all'interno della struttura o di determinati luoghi quindi chiedo scusa indica quando ha fatto quella attività di sanificazione l'orario e poi alla fine della giornata mette anche la firma ok quindi io do tracciabilità all'interno della mia azienda di quando sono state sanificate determinati ambienti ad esempio gli ambienti igienici fatte due volte alla giornata fate eventualmente alla mattina da una persona al pomeriggio da un'altra queste schede mi permettono di andare a rilevare se sto prestando attenzione a determinati ambienti per evitare qualsiasi forma di contagio e sono dei documenti che nel momento in cui si dovesse presentare a qualcuno per un'ispezione della mia azienda mi permette appunto di dare tracciabilità di come ho adempiuto a quello che è descritto all'interno del protocollo ecco spero di essere stato utile in questa riflessione che abbiamo fatto insieme ecco importante allora che andiamo a considerare in questo momento particolare il il ruolo potremmo dire che a questo questo protocollo non è la stessa cosa del dvr ok perché il dvr ti va a fare un'analisi della situazione all'interno della tua azienda dove non si modifica con molta facilità quella che è la rilevazione del rischio che tu hai effettuato all'interno del documento certo il documento di valutazione dei rischi va sempre aggiornato ma il protocollo ti porta adempiere a una serie di indicazioni che nel corso anche della giornata o delle attività che stai svolgendo e può modificarsi quindi a quel protocollo mira a una maggiore condivisione da parte del datore di lavoro con i lavoratori per gestire la sicurezza in un momento che chiamiamo di emergenza ok quindi togliamoci un po' la paura di dire devo fare determinate cose perché se vengono a fare la visita ispettiva e non le ho fatte prendo la multa oppure mi chiudono l'azienda oppure chissà che cosa succede no dobbiamo andare a creare un sistema all'interno degli nostri ambienti in questo caso stiamo parlando delle nostre scuole dove in questa fase particolare di emergenza se stiamo svolgendo delle attività particolari dobbiamo tutelare i nostri lavoratori i nostri collaboratori e dobbiamo creare questa cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro che è lo stesso obiettivo che ha il dvr il dvr non sono solamente delle procedure da adempiere ma una serie di procedure che devono creare una cultura della sicurezza in un ambiente lavorativo dico questa cosa ma non ne sono totalmente certo il protocollo così strutturato dovrà essere messo in pratica a settembre quando noi riapriremo le scuole non lo sappiamo quindi dico a coloro che si stanno preoccupando di comprare determinate strumentazioni e di non affrettarsi attendiamo insomma attendiamo indicazioni in merito a come dovrà essere gestita ecco la problematica covid e quindi il contenimento del contagio in un momento in cui si dovrà creare probabilmente una maggiore condivisione con questo virus e nel momento in cui entreremo anche all'interno della nostra azienda che è la scuola in una maggiore ordinarietà adesso non siamo in una ordinarietà piena siamo in una situazione in cui dobbiamo gestire secondo queste indicazioni le attività minime che vengono svolte all'interno dei nostri ambienti quindi non preoccupiamoci adesso di andare a mettere in atto delle procedure che non sappiamo ancora se dovranno essere così oppure diverse in una in un secondo momento che è quello della riapertura dei nostri ambienti scolastici però attenzione mi è saltato questo vi faccio vedere un esempio di chi politecnico di torino di chi sta lavorando in una riflessione già in riferimento a quella che è la riapertura della scuola a settembre ok questa è una versione del 2 maggio dove vi faccio vedere questa è un po tutta l'analisi che questa struttura sta facendo in merito alla propria attività scolastica ok vi faccio vedere che qui in fondo hanno fatto anche già una verifica di quelli che sono gli spazi e come gestire gli ingressi e le uscite come andare a tutelare gli alunni docenti collaboratoriata personale vario all'interno della della struttura azienda che si chiama scuola ok quindi noi in questo momento siamo chiamati a fare una riflessione su quelle che possono essere delle problematiche che dobbiamo gestire come dovremo gestire queste problematiche ad oggi non lo sappiamo perché dovremo ricevere delle indicazioni operative per quando riapriamo la scuola però non aspettiamo queste indicazioni guardiamo i nostri ambienti cerchiamo di fare delle riflessioni per capire con la permanenza di questo virus come potremo iniziare a settembre l'attività scolastica essendo in grado di assolvere a determinate procedure che garantiscano gli alunni e il personale di fronte al contagio del covid ok però ecco stiamo anche tranquilli in questa fase che se noi guardiamo questo protocollo per quelle attività che stiamo svolgendo in questo momento adempiamo a queste indicazioni che penso siano abbastanza comprensibili dico anche facili non perché siano difficili da mettere in pratica ma facili in una comprensione ma anche in una capacità di coinvolgere le persone che vengono a lavorare a creare questo criterio di sicurezza mentre mentre si lavora ecco che allora servono sì le procedure e anche le documentazioni ma quello che serve maggiormente in questo momento è il buon senso e la capacità di lavorare insieme con i nostri collaboratori quelli che chiamiamo lavoratori per creare questa corresponsabilità per vivere in maniera responsabile e anche in sicurezza l'attività lavorativa secondo le indicazioni che stiamo ricevendo o meglio che abbiamo ricevuto in questa fase dal ministero della salute ecco io vi ringrazio della pazienza e vi faccio vedere qui per concludere un amico fotografo che riaprirà il 18 maggio il proprio studio come ha recepito le indicazioni del protocollo e ha creato anche queste immagini simpatiche per quella che la sua utenza ok quindi anche genitori è uno studio fotografico per bambini e quindi da una serie di indicazioni su quelle che sono le procedure perché dice aderisco al protocollo sicurezza anti codib ok e lo stesso penso che dovremmo fare noi perché siamo in grado di farlo ecco mi sento di dire questo probabilmente non ho risposto a tutte le domande o avrei voluto dire tante altre cose ma il tempo passa molto velocemente se voi avete bisogno di avere ulteriori indicazioni o rimangono anche delle perplessità in merito a quello che si deve adempiere in questa fase ecco inviate le vostre richieste all'interno di questo webinar e poi quanto prima vi daremo risposta grazie a tutti grazie padre sebastiano per la completezza e anche abbiamo capito che dobbiamo metterci all'opera ma tante realtà già lo stanno facendo le domande sono pervenute le stiamo raccogliendo le faremo pervenire a padre sebastiano che come abbiamo detto all'inizio risponderà in un video a tutti gli interrogativi posti nei prossimi giorni rassicuro quanti hanno chiesto nei prossimi giorni vi arriverà un email a quanti sono iscritti dove ci sarà la possibilità di compilare un questionario di gradimento e poi la possibilità di scaricare l'attestato di partecipazione e nello stesso tempo poter scaricare i materiali all'interno di questi materiali troverete anche il video con le risposte grazie padre sebastiano e buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti e vi aspetto tutti domani alle 17 e 30 per per iniziare insieme una bellissima avventura guardare insieme al futuro vogliamo vivere la scuola da settembre 2020 perché vogliamo fare scuola buona serata a tutti arrivederci